ciao oggi in questo video ti spiegherò come andare a fare la disdetta telecom ci potrebbe essere tanti motivi per cui devi fare una disdetta telecom normalmente perché non ha più necessità di avere una connessione fibra o internet su cavo e magari hanno trovato una soluzione alternativa oppure avevi ancora il numero telefonico a casa e hai deciso di liberartene e quindi hai necessità di fare una disdetta telecom ma all'interno di questo video ti spiegherò anche come andare a fare la disdetta Vodafone, Fastweb, Wind o di qualunque altra compagnia telefonica o fibra esistente in Italia altri motivi per cui potresti aver bisogno di dover fare una disdetta telefonica o fibra è che praticamente a casa tua avevi una linea fibra hai richiesto l'attivazione di una fibra nuova di un'altra compagnia e quindi hai necessità di andare a disdire la fibra che è attualmente in essere in quanto in quel caso non si può fare una portabilità della numerazione e quindi la cosa giusta da fare è quella di andare a disdire la fibra esistente fai molta attenzione perché quando vengono fatti i contratti telefonici non viene mai detto che tu devi andare a disdire la tua linea fibra o telefonica attuale purtroppo gli operatori del call center non lo dicono o a volte mentono dicendo che penseranno loro andare a disdire l'attuale linea telefonica purtroppo molto spesso non è così e se non lo fai ti ritroverai a pagare due compagnie telefoniche allo stesso tempo quindi massima attenzione se ti è successa questa cosa fai subito la disdetta al tuo attuale operatore per non pagare una doppia fatturazione ma innanzitutto com'è che si fa la disdetta telecom e quanto tempo ha il gestore per andare a disdire la linea telefonica o la linea fibra internet allora innanzitutto la cosa migliore per fare una disdetta oggi giorno in Italia è quella di utilizzare una PEC nel caso in cui tu non abbia una PEC ti consiglio di attivarla immediatamente puoi andare sul sito di Aruba ed attivarla nel giro di 5 minuti al costo di soli 5 euro l'anno con una PEC puoi fare veramente un sacco di operazioni disdette comunicazioni veloci chiare tracciate quindi legalmente valide nel caso in cui tu non vuoi attivare una PEC ovviamente puoi fare una raccomandata con ricevuta di ritorno in entrambi i casi quando devi fare la disdetta al tuo attuale operatore ricordati sempre di allegare una copia del documento di entità fronte retro e valido e leggibile altrimenti la disdetta è vana questo è fondamentale Telecom o qualunque altro gestore Vodafone, Fastweb, Iliad, Wind3 ha tempo 30 giorni da quando riceve la tua disdetta per andare a disattivare effettivamente quella linea internet o quella linea telefonica altra domanda che ci viene fatta spesso è ma devo pagare delle penali per disdire un contratto telefonico o di fibra? purtroppo si si è previsto dal contratto il decreto Versani è stato raggirato inserendo nei contratti telefonici altre clausole normalmente chiamate corrispettivo per recesso anticipato o penale per recesso o costo di disattivazione tramite la nostra società puoi andare a contestarli siamo in questo settore dal 2009 siamo stati chiamati anche da Striccia Notizia per quello che facciamo e siamo esperti nel cancellare importi di penali con le compagnie telefoniche quindi se hai necessità ci puoi contattare per fare la disdetta Telecom ti metto qui in sovraimpressione l'indirizzo PEC a cui devi inviare la disdetta nel caso tu sia un privato oppure l'altro indirizzo PEC a cui devi inviare la disdetta nel caso in cui tu sia un'azienda mi raccomando ricordati sempre di allegare il documento di identità nel caso in cui tu debba fare la disdetta a un'altra compagnia ti metto qui sotto la pagina dove puoi trovare tutte le PEC delle principali compagnie telefoniche una cosa molto importante da ricordarsi nel caso in cui tu faccio una disdetta a una compagnia telefonica e tu abbia un router incomodato d'uso devi restituirlo ti metto sempre qui sotto una pagina dove puoi trovare tutti gli indirizzi in descrizione dove restituire il router alla compagnia questo è molto importante segui le indicazioni nella pagina su come va rinviato al gestore e tutte le modalità questo ti garantirà di essere al sicuro e non ricevere ulteriori penali o sanzioni dal gestore in questione spero che questo video ti sia stato utile se è così per favore lascia un like al video se avessi qualunque altro tipo di domanda sulla disdetta telecom o di qualunque altra compagnia la ristituzione del router eccetera falla pure qui sotto nei commenti ti risponderò prontamente entro 24 ore se hai bisogno di altra assistenza per gestire un contenzioso con un gestore telefonico ci puoi contattare allo 0571 19 64 248 o ci puoi scrivere una mail a infochioccia labrokerperlatelefonia.it se sei interessato a essere aggiornato continuamente su tutte le dritte per districarsi nel mondo della telefonia internet ma anche luce gas e acque iscriviti al nostro canale e rimani aggiornato anche sulle migliori offerte della fibra ottica connettività e migliori offerte luce e gas grazie per avermi ascoltato fin qui e ci vediamo al prossimo video